Questa pillola di greco moderno per escursionisti la faccio col microfono vicino alla bocca perché sono in un luogo che merita assoluto silenzio. È un luogo di un'intensità emotiva altissima, soprattutto per chi ama l'avventura e la natura. Sono al cimitero di Porto Venere e sono appena stato sulla tomba di Walter Bonatti. E da qui mi vengono in mente due parole in greco, che sono nekrotafio, che significa cimitero, danekros, morto, etaphos, sepolcro. E un'altra parola bellissima è SOP, femminile, che significa silenzio. Anche dai sentieri di autentica creta faremo silenzio e ascolteremo soltanto i suoni potenti della natura. Alla prossima!